Musica Pronto? Sono Kurt. Sì, sono Kurt. Voglio parlare con il capo. È urgente. Scommento che questo Norton ha la solita faccia da idiota di tutti i poliziotti. Dimmi, Kurt. Huguette l'ha riconosciuto, capo. È proprio Steve Norton. Ma ci è sfuggito. Imbecilli. Basta, non cercare scuse. Porta qui Huguette e sta attento che non vi segua. Noi, non cercare scuse. Noi, non cercare scuse. Noi, non cercare scuse. Grazie a tutti. Grazie a tutti.